Non c'è ancora la fumata bianca per Francesca Valzani Come primo nome della futura lista arancione La trattativa con Giuseppe Sala prosegue Mentre a sinistra prende sempre più corpo l'idea di candidare Gerardo Colombo Dal centrodestra stuzzicano l'ex numero uno di Expo Parlando di un nervosismo evidente dovuto alla crescita dei consensi di Stefano Parisi Intanto la grillina Patrizia Bedori attacca entrambi Non sono politici ma due manager abituati a frequentare i consigli d'amministrazione C'è preoccupazione per il destino di 300 dipendenti della banca inglese Barclays Che sta portando avanti il piano di riduzione della propria presenza nel nostro paese Stamane sciopero e presidio di protesta La FIOM intanto torna a lanciare l'allarme per lo stabilimento Electrolux di Solaro Sei ordinanze di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta sull'acquisto E l'esportazione verso l'Iran di materiale potenzialmente impiegabile nella costruzione di armamenti L'operazione delle fiamme gialle di Como I reati ipotizzati vanno dall'Associazione per delinquere alla violazione delle sanzioni Decise dall'Unione Europea ai danni dell'Iran Una donna si è impiccata nei giardinetti pubblici di Piazza Napoli, zona Giambellino Era una senza tetto di 46 anni ed era nata in Polonia Quando è stata trovata era già morta Soffocata da una sorta di lenzuolo attaccato alla ringhiera degli ex bagni pubblici Buonasera a tutti, bentrovati al consueto appuntamento con il TGN In primo piano, l'avete visto, c'è la politica e in particolare il pressing Perché Francesca Balzani accetti di guidare la lista arancione Ma anche il nome di Gerardo Colombo che prende sempre più quota come candidatura del fronte a sinistra Di Giuseppe Sala, tutto nel servizio del nostro Alberto Carreras Si continua a trattare nel centro-sinistra milanese Obiettivo è riuscire a dar vita all'ormai famosa lista arancione Che dovrebbe essere cappeggiata da Francesca Balzani Ufficialmente tutti ostentano ottimismo Ma i problemi non mancano Visto che sinora non è stato possibile mettere tutto nero su bianco Giuseppe Sala ha vinto le primarie Dunque dovrebbe essere lui a decidere Ma chi ha perso vuole avere la certezza di ottenere un ruolo importante Nel futuro governo di Palazzo Marino E poi bisogna tenere insieme la coalizione Con Sinistra Ecologia e Libertà Che ha chiesto precise garanzie Per dare il proprio appoggio A sinistra c'è poi l'ombra di Gerardo Colombo Ex PM di Mani Pulite Che potrebbe scendere in campo Con quelli che non accettano L'ex commissario Expo E' chiaro che non è la stessa cosa Che vice sindaco della futura giunta Diventi Francesca Balzani Piuttosto che Lucia De Cesaris O Cristina Tajani I vertici del PD stanno cercando la non facile mediazione Sabato 19 marzo partirà ufficialmente la campagna elettorale Se la Balzani accettasse di fare la capolista degli arancioni E' chiaro che in caso di vittoria Dovrebbe ottenere adeguata ricompensa E probabilmente è sulla ricompensa e sulle richieste collegate Che l'intesa ancora non c'è Sala punta molto sull'elettorato di centro E sbilanciarsi troppo a sinistra Potrebbe essere controproducente Cosa condivisa anche dal segretario del PD Bussolati Tutti sono consapevoli di quanto accaduto in Liguria Dove i contrasti nel centro-sinistra Hanno favorito la vittoria del centro-destra Sala comunque escluso di poter accogliere Nella coalizione esponenti di ALA Di Denis Verdini Voce che era circolata negli ultimi giorni I confini della coalizione restano quelli già decisi Ha fatto sapere L'incontro a casa del giornalista Gad Lerner Non ha tuttavia sancito l'accordo Ma probabilmente ha fatto emergere alcuni contrasti Francesca Balzani è arrivata a dire Non escludo nulla Nemmeno di non cadidarmi Intanto Pierfrancesco Maiorino invita tutti A parlare dei programmi Per il futuro della città E di lasciare gli incarichi e le poltrone Ad una fase successiva Infine Forza Italia e Lega Sono in sorte Dopo che Sala aveva parlato di facce inquietanti Dietro a Stefano Parisi Sala è molto nervoso Hanno detto Perché i consensi a Parisi Aumentano giorno dopo giorno E oggi a Palazzo Marino C'è stata anche una conferenza stampa Indetta da Patrizia Bedori La candidata del Movimento 5 Stelle A sindaco di Milano Ha detto Sala e Parisi sono dei manager Abituati a frequentare i consigli di amministrazione Non sono affatto dei politici E le loro coalizioni Non sono riuscite a trovare delle persone Che potessero rappresentarle Come sempre Non daremo indicazioni di voto Se al ballottaggio ci saranno loro due Sala e Parisi Quindi in merito Alla lista del Movimento 5 Stelle Ha confermato che Dovrà essere sottoposta Al voto online A breve faremo una conferenza stampa Per presentare i punti Del programma Ha detto anche Patrizia Bedori Cambiamo Palazzo Andiamo a Palazzo Lombardia Perché oggi a margine di un evento Di cui vi daremo conto Nel prosieguo del nostro telegiornale Il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni E' tornato sulla costituzione Dell'Agenzia Regionale Anticorruzione L'ARAC Ha scandito i tempi Per concretizzare il tutto E rendere operativo Il nuovo ente Snobbando le polemiche E soprattutto l'ipotesi Che il governo Renzi Possa impugnare La legge regionale Che darà vita all'ARAC Sentiamolo No ma scusate Ma di che cosa parliamo Ho presentato la proposta di legge Il Consiglio ha deliberato l'urgenza Andrà in Consiglio il 15 marzo E sarà approvata il 15 marzo Cosa vuol dire non sta partendo C'è il lavoro preparato C'è il lavoro preparato C'è chi non la vuole la legge Ovviamente Qua le opposizioni Bene La notizia è che la faremo E che non sarà impugnata dal governo Perché tratterò io con il governo Eventualmente Quindi il 15 marzo Ci sarà la legge approvata E dal 16 marzo Sarà operativa La nuova autorità regionale anticorruzione Maroni ha anche depositato oggi In commissione Cinque emendamenti Con la sua firma All'impianto appunto Della legge regionale Senza però ovviamente snaturarla Il Movimento 5 Stelle Ha definito questi interventi Ridicoli E bocciando di fatto Tutto quello che ha fatto Maroni In tema E per il PD Invece sarà una costosa Foglia di fico Dietro la quale nascondere L'incapacità di Maroni Di far cambiare verso Alla sanità Lombarda Il consiglio di amministrazione Di Arexpo adesso La società proprietaria Dei terreni Dell'area Expo Nella sua seduta Di insediamento Ha formalizzato La nomina Presidente della società Del rettore Del Politecnico di Milano Giovanni Azzone E quella Ad amministratore delegato Del direttore generale Di regione Lombardia Giuseppe Bonomi Il terzo componente Del CDA E la dottoressa Chiara Della Penna La prossima Assemblea straordinaria Dovrebbe ratificare L'ingresso del governo In Arexpo Con la nomina Di due membri Nominati dal Ministero Dell'Economia L'Assemblea straordinaria Verrà convocata Quando il decreto Della presidenza Del consiglio Che regola L'ingresso del governo Appunto in Arexpo Sarà registrato Alla corte dei conti Cambiamo argomento A rischio 300 posti di lavoro Alla banca inglese Barclays Che sta sostanzialmente Abbandonando O comunque diminuendo Di molto La sua presenza Nel nostro paese Vediamo Il lavoro Non si tocca Oggi sciopero E protesta Dei dipendenti milanesi Della banca Barclays Davanti alla sede Dell'associazione Bancaria italiana In via Olona A Milano Malcontento Disagio E rabbia Per una situazione Che pare sfuggita A tutti Il gruppo inglese Barclays Ha nel nostro paese 1.020 dipendenti La multinazionale Ha deciso La riduzione Della propria presenza In Italia 580 lavoratori Verranno trasferiti A che banca Del gruppo Mediobanca Oltre a cedere Questi dipendenti Il gruppo britannico Caso più unico Che raro Ha staccato Un assegno Da 237 milioni Di euro Altri 150 dipendenti Resteranno per il momento In Barclays Mentre per 300 Pare non ci siano Alternative Alla perdita Del posto di lavoro Noi abbiamo Un'azienda Che è Barclays Che decide Per la terza volta Nel giro Di pochi lustri Di uscire Dall'Italia E in questo caso Mettendo in crisi La situazione occupazionale Di più di mille Lavoratori E lavoratrici Che nel frattempo Erano stati assunti In un piano Industriale Che prevedeva Una espansione Rapida Su tutto il territorio Nazionale Ecco ma c'è un fatto Curioso Barclays Ha pagato Che banca Per trasferire Dei dipendenti Il tema Che banca Ha accettato Di acquisire La rete Degli sportelli Però Ha preteso Una dote Consistente E la dote È quella Che vedete Scritta Su quell'assegno Fantomatico Di 237 milioni Di euro È evidente Che un imprenditore Fa qualche vuole Ha deciso Di uscire Dal mercato Perché non è più Strategico Esce dal mercato Però non è possibile Che venga Questa azione Venga fatta Sulle spalle E sui lavoratori Quindi noi abbiamo bisogno Di un'assunzione Di responsabilità Da parte Dell'azienda In primis E anche di tutto Il sistema bancario Il lavoro Non si porta A livello sindacale Non c'è solo Il nodo Legato a Barclays Perché la FIOM CGL Oggi ha rilanciato L'allarme Per Electrolux Segnalando L'aggravamento Della crisi Per lo stabilimento Di Solaro Nel milanese Uno dei quattro impianti Del gruppo svedese Degli elettrodomestici La presa di posizione Emersa in occasione Dell'incontro sindacale Tra la direzione italiana Di Electrolux E le segreterie nazionali Di FIM FIOM E WILM Insieme al coordinamento Dei delegati RSU Svoltosi appunto oggi A Mestre Una riunione La prima di questo 2016 Convocata per fare Il punto della situazione E valutare gli interventi Utili A tutelare l'occupazione E rafforzare La continuità industriale Dopo l'accordo Per superare la crisi Electrolux Sottoscritto Con la presidenza Del Consiglio Dei Ministri Nel maggio del 2014 La fabbrica di Solaro Che ha 900 dipendenti Ricordiamo Produce Lavastoviglie La cronaca adesso Non ho mai conosciuto Iara Né nessuno dei membri Della sua famiglia Conoscevo solo Il signor Gambirasio E solamente di vista Non ho mai visto Iara Lo ha detto Massimo Bossetti Interrogato dalla PM Letizia Ruggeri Davanti alla Corte d'Assise Di Bergamo Aggiungendo Dottoressa Io non sto mentendo Lo hanno fatto Quelli che hanno preso Questo posto prima di me Salvo i miei consulenti Qui hanno mentito tutti Bossetti ha ribadito Di non ricordare A distanza Di così tanto tempo Cosa ha fatto Il giorno della scomparsa Di Iara Né che tempo Ci fosse Che tempo facesse La PM invece Gli ha contestato Che in un colloquio In carcere Intercettato Con la moglie Marita Comi Aveva detto Che in quel periodo Pioveva O nevicava Mia moglie Mi ha fatto Ben più di un interrogatorio Ha raccontato Sempre Bossetti Mi ha messo al muro Mi ha fatto Molte più domande Di lei Le mancava la fiducia E il rispetto Nei miei confronti Sei ordinanze Di custodia cautelare Tre in carcere Due ai domiciliari E una Con obbligo Di dimora A carico di 5 iraniani E un italiano Questo l'esito Di un'operazione Dei militari Del nucleo Di polizia tributaria Della guardia di finanza Di Como Nell'ambito Di un'inchiesta Riguardante operazioni Di mediazione Finalizzate All'approvvigionamento Di materiali Dual use Potenzialmente Impiegabili Nel settore bellico L'inchiesta Riguarda l'acquisto Ed esportazione Verso l'Iran Di macchinari Per la fabbricazione Di tubi d'acciaio Da utilizzare Come potenziale Materiale missilistico E di apparecchiature Idonee Se modificate A creare una rete A banda larga Per scopi militari E anche di motori E componenti Di aerei Ed elicotteri I reati contestati Sono associazione Per delinquere Violazione Delle disposizioni Comunitarie Inerenti Le misure restrittive Nei confronti Dell'Iran E della normativa Sul controllo Dell'esportazione Importazione E transito Di materiale Di armamento Le accuse Sono aggravate Dalla transnazionalità Una donna Di 46 anni Una storia Davvero triste Una clochard Di origine polacca Si è impiccata Oggi Stamattina Presto In piazza Napoli A Milano Alcuni passanti Hanno notato Il corpo E hanno dato L'allarme E' accaduto stamane Verso le ore 7 In piazza Napoli A Milano Una donna Che la polizia Ha identificato Come una clochard Polacca Di 46 anni E' stata trovata Morta Si sarebbe impiccata Con un lenzuolo Che l'è stato trovato Legato al collo E hanno dato Sulla piccola ringhiera Che si trova Nella parte superiore Di questo edificio Che ospita Un bagno pubblico Gli agenti di polizia Corsi insieme Ai soccorritori Del 118 Hanno rinvenuto Il corpo A fianco Di questo cassonetto Dei rifiuti Ci troviamo Nella giardino Nell'area verde Al centro Di piazza Napoli Proprio a fianco Dell'area giochi Per i bambini La donna Non aveva con sé Documenti E indossava Vestiti Particolarmente Sgualciti La clocharda E' stata notata Da più persone Che Costatato Che non si muoveva Hanno chiamato Immediatamente I soccorsi E la polizia La donna Non era nota Alle forze Dell'ordine E sembra Che non abbia Lasciato alcun biglietto Per spiegare Il motivo Di questo gesto Estremo Non mi riconoscere Mi possono dare 20 anni Ma quando esco Ti ammazzo Questa frase Scritta Incollando lettere Ritagliate Su un foglio E' stata attaccata Sulla porta Di un'agenzia Assicurativa Di Corsico Da un rapinatore Di 23 anni Che il giorno prima Aveva rubato 250 euro Il colpo è avvenuto L'11 marzo Del 2015 Ma solo di recente E' stato possibile Risalire all'autore Grazie alle impronte Emerse Con l'analisi Del foglio stampato Analizzato Appunto dai carabinieri All'epoca A novembre Infatti il 23enne E' stato arrestato Per aver rubato Il bauletto Di uno scooter E quando sono state inserite Le sue impronte Nel database E' emersa la corrispondenza Con la traccia Lasciata sul biglietto Minatorio Ieri i carabinieri Della compagnia di Corsico Hanno quindi eseguito Un'ordinanza di custodia Cautelare in carcere Nei confronti Del rapinatore Che un anno fa Fece irruzione Nell'agenzia A volto scoperto E armato Di una pistola Un'auto della polizia Si è ribaltata La notte scorsa a Milano Vediamo le immagini Le istantanee Dopo lo scontro Con una vettura Del car sharing Enjoy La vedete I due agenti a bordo Hanno avuto bisogno Delle cure mediche Ma le loro condizioni Non sono gravi Il capo equipaggio Di 35 anni Ha riportato contusioni Guaribili in 10 giorni L'autista di 24 Una sospetta frattura Allo zigomo L'incidente è avvenuto La notte scorsa Attorno alle 2 All'angolo tra via Venini E via Giovanni Da Palestrina Il leso Il conducente dell'auto A noleggio Chiederemo alla società Di car sharing Enjoy Di verificare I dati relativi Alla velocità media Delle vetture Poiché si sono registrati Diversi incidenti Con le loro auto E il timore Che gli scontri Possano essere provocati Dalla frenesia Del cliente Di arrivare prima Per pagare meno Il noleggio Questa è una nota Della questura Milano dovrà far fronte Ad una nuova Emergenza profughi Sentiamo perché Nel servizio Milano sta per vivere Un'altra Emergenza profughi La guerra Che prosegue in Siria In Iraq I sempre maggiori Flussi di disperati Che lasciano il proprio paese Gli stati europei Che chiudono le frontiere Contribuiscono a creare Allarme in Italia E la nostra città È in prima fila Nell'accoglienza Di quanti fugono Da guerra e fame Non ha avuto l'esito sperato Il bando Con il quale La prefettura di Milano Cercava di allestire 4.500 posti letto Il 50% in più Rispetto a quanto avviene oggi In vista del grande afflusso Di profughi Previsto Nella prossima primavera 3.000 sono circa le persone Alle quale viene garantita Ospitalità A Milano e provincia La scorsa settimana Si è svolta L'apertura delle buste Dei 20 enti e associazioni Che si occupano Di quanti richiedono asilo Riceveranno dallo Stato 35 euro al giorno Per ogni persona Alla quale viene prestata Assistenza Oltre ai 2 euro e mezzo Sempre al giorno Assegnati ad ogni migrante Si va dalla Caritas Al progetto Arca E a tutte le altre associazioni Tuttavia sembra Che non ci saranno Centinaia di posti in più Auspicati Rispetto allo scorso anno Insomma Non ci sarà Molta differenza Rispetto ai 3.000 posti Garantiti oggi L'aggiudicazione Dei posti Previsti nel bando Avverrà In una seconda fase Intanto però Secondo molte fonti È previsto Un notevole incremento Negli arrivi Dei profughi Il costo Dell'accoglienza Per sei mesi Sarà intorno Ai 35 milioni Di euro In via San Martini Nei pressi Della stazione centrale Verrà allestito Un centro Di prima accoglienza Con 90 posti Dove verranno Alloggiati i profughi Che si presenteranno Spontaneamente Al centro Hub Che si trova Nella sottopassaggio Di via Tonale Una nuova emergenza È alle porte Svolta invece Nella vicenda Del campo nomadi Di via Idro Perché il consiglio di stato Ha respinto L'appello presentato Dalle famiglie Con il quale Si chiedeva Di sospendere La chiusura Dello stesso campo Decisa Dal comune di Milano Lo rende noto Palazzo Marino In una nota Nei prossimi giorni Le famiglie Saranno invitate A uscire dal campo E trasferirsi Nelle soluzioni Individuate dal comune E già visitate Dagli stessi nomadi Poi si provvederà In accordo Con la prefettura Ad allontanare Chi non ha rispettato L'invito E a procedere Al recupero dell'area Per pulirla E metterla In sicurezza Polemica Da parte del Componente Esponente Di Fratelli d'Italia Riccardo Decorato Non sanno neanche Cosa voglia dire Sgomberare Loro traslocano Le persone Da un posto all'altro Mettendoci anche Dei soldi E cita un dato 1345 Rom Avrebbero ricevuto Un alloggio Durante l'amministrazione Pisapia Diamo un racconto Degli sviluppi Della vicenda Della donna Che ha piantato Una tenda In Piazza della Scala Per protestare Contro l'occupazione abusiva Del suo appartamento E per chiedere Lo sgombero Dello stesso D'intesa Con i servizi sociali Di Pavia Aler comunica Di aver disposto La procedura Di cambio alloggio Per assegnare Alla donna Una nuova sistemazione Aler segnala anche Che la situazione Si è complicata In virtù di alcune Incertezze Della signora Che prima Ha presentato Disdetta dell'alloggio In questione Poi ha lasciato vuoto L'appartamento Per circa un anno Prima di presentare La denuncia Dell'ipotizzata Occupazione Questa è quanto si legge In una nota diramata Dall'azienda Ora comunque La vicenda Pare risolta Sull'altare maggiore Del Duomo È straordinariamente Visibile Un antello Che fa parte di una delle più belle Vetrate della cattedrale L'opera è stata scelta Come icona artistica Per la seconda via Crucis Guidata dal cardinale Angelo Scola Il servizio Di Anna Maria Braccini E' intitolato Il Cireneo E' straordinariamente Per qualche giorno E' ammirabile Sull'altare maggiore Del Duomo Mentre di consueto E' posto All'interno Di una delle più belle Vetrate della cattedrale L'antello 90 Della vetrata 19 Del nostro Duomo La vetrata 19 E' la vetrata grande Di destra Dell'abside Che insieme Alle altre due Formano un complesso architettonico E dell'arte del vetro Tra i più importanti E più grandi Dell'arte del gotico Internazionale E' l'antello Che è stato scelto Come icona Della seconda via Crucis Con il cardinale Scola Che si è svolta Guidata dal tema I volti della misericordia Come è appunto Il Cireneo Che come racconta Il Vangelo di Marco Viene caricato Della croce di Cristo Sul Calvario Appare una figura Che la luce Ci rivela essere giovane e forte Abbraccia la croce La fra propria E la figura Di Simone di Cerene L'evidenza Della veste rossa Del Signore I volti dei carnefici La terra Plumbea Su cui cade Gesù Tutto contribuisce All'immagine del dramma Che sta compiendosi Anche grazie Alla tecnica utilizzata Nella prima metà Del 1800 La vetrata Viene completamente Rifatta Da Giovanni Battista Bertini E poi nella seconda Metà dell'800 Invece viene completata Dai due figli Giuseppe e Pompeo Ovviamente cambia Anche la tecnica Ai vetri trasparenti E luminosi Giocati con delicatezza Della grisail Con la grisail Della tecnica antica Si sostituisce Una sorta di pittura Su vetro Di sapore proprio Ottocentesco Le auto Dell'Alfa Romeo Giulia I team Che parteciperanno Al rally internazionale Pechino Parigi 2016 In programma dal 12 giugno Al 17 luglio Sono stati presentati A Milano In piazza città Della Lombardia Sotto la sede Della regione Il governatore Roberto Maroni Intervenuto alla presentazione Abbiamo sentito Un estratto di una margine Proprio prima Ha ringraziato Lo straordinario lavoro Dei tanti appassionati E della scuderia Del portello Grazie ai quali È stato possibile Conservare questi pezzi Storici Maroni ha anche ricordato L'impegno della regione Per riaprire il museo Dell'Alfa Abbiamo lavorato intensamente Ha detto E ci siamo riusciti La serata di Telenova Adesso alle 20 e 30 Linea d'ombra Si parlerà Della ipotesi Di un intervento Bellico In Libia E dei mutui E delle case Legate alle banche Oltre che i dati economici Il PIL Che non è più Dello 08 Ma dello 06 La crescita Del PIL Ci saranno Antonio Panzeri Eurodeputato Del Partito Democratico Marco Alparone Sindaco di Paderno Dugnano Di Forza Italia Carlo Fidanza Di Fratelli d'Italia Massimo Bonini Segretario della Camera del Lavoro Di Milano E il blogger Edoardo Petiziol Ma adesso Prima della politica Il calcio Con Nova Stadio Sprint Luciano Rindone L'ospite di questa sera Che è l'avvocato Dante De Benedetti Davvero è tutto Per questo telegiornale Grazie E buona serata Sugli schermi di Telenova